Linea guida per il piano marketing, il Comune di Pescara presenta un'iniziativa, in questo caso su cosa si basa? Questa città e questa amministrazione vuole lanciare la vocazione turistica della città e insieme alla DMC stiamo lavorando per il piano marketing turistico strategico della città di Pescara che sarà tutta una serie di azioni che lanceranno la vocazione turistica della città è appunto un programma da cui partiranno tutta una serie di interventi che serviranno a lanciare questa vocazione da qui al futuro In realtà poi si intreccerà anche con altri comuni, quindi in questo senso si guarda l'aspetto naturalistico, paesaggistico e poi a cos'altro? Sicuramente parliamo del mare, ma parliamo anche di enogastronomia, arte, cultura, culto, c'è un po' di tutto in questo territorio Un fatto che mi pare saliente da sottolineare è che per la prima volta la città di Pescara e la città di Chieti stanno insieme attorno ad un tavolo per decidere strategie turistiche che mi sembra dopo anni e anni di grande campanilismo mi sembra un fatto anche questo decisamente innovativo